Musica Sul tagliamento oggi non ci sono cannoni Che arrivaranno addirittura al minaccio della lucidazione E' l'alba del 14 novembre 1917 Temperatura meno 10 Nell'oscurità i fucili sono inutili Baionette italiane contro pugnali bosniaci Critica, molto critica se fai invece la situazione a destra Le mitallettrici italiane sparano, sparano e sparano ancora Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!